Ho iniziato come aiuto allenatore giovanissimo, attorno ai 16 anni. Adesso ne ho 55, quindi ho cominciato un lungo percorso con la ginnastica artistica. Dal 90 lo faccio in maniera assolutamente professionale, ciò che impegna tutta la giornata. Ho iniziato a fare ginnastica intorno ai 7 anni. Prima in un paese in provincia di Cremona, dove abitavo allora. Quando sei piccola inizi più come un gioco per divertimento così, poi però aumentano i sacrifici, aumenta l'impegno e tutto. E c'è bisogno di più concentrazione. Ciao! 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 Scostالie? ベ Скorsa as po 杭 置 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.